Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha lanciato un appello urgente al governo centrale per salvare le imprese tarantine dell'indotto dell'exilva, proponendo un piano regionale che potrebbe offrire una soluzione ai problemi finanziari che la affliggono. In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, Emiliano ha offerto la liquidità della regione Puglia per saldare i debiti che le acciaierie d'Italia hanno accumulato con le imprese dell'indotto. Questo gesto, ha sottolineato Emiliano, potrebbe impedire il fallimento di numerose aziende che dipendono dalle somme che non vengono pagate dalla società franco-indiana affittuaria del ramo aziendale che gestisce l'acciaieria di Taranto. La proposta di Emiliano non si ferma qui. Il presidente ha anche sottolineato la necessità di un'aderoga alla disciplina degli aiuti di Stato e l'autorizzazione per utilizzare l'avanzo derivante dal risultato di amministrazione della regione Puglia. Queste misure, se attuate, potrebbero rappresentare un baluardo vitale per le imprese locali che lottano per sopravvivere. Emiliano ha evidenziato l'ironia di una situazione in cui il governo investe miliardi di euro per stimolare nuove iniziative economiche, mentre allo stesso tempo le imprese che forniscono servizi vitali per la regione vengono lasciate al loro destino. È un'assurdità che richiede un'azione immediata e risoluta. Inoltre Emiliano ha ricordato che questo non sarebbe il primo episodio di negligenza da parte del governo nei confronti delle imprese tarantine. Già in passato, chiose il presidente, il governo ha causato gravi danni economici alle imprese locali attraverso l'amministrazione straordinaria delle aziende che gestivano l'acciaieria per conto dello Stato italiano. Grazie a tutti!